Che è successo? La mia testa... Ma aspetto un attimo... Dove sono? Io riconosco queste pareti... Oh no! Siamo ritornati... Dov'è la casa di... Brenny! Ciao nonna! No! Nonnina... Hai preso di nuovo la mia macchina... Nonna... Che stai facendo? Dove ci stai portando nonna? Ci stai riportando di nuovo a casa tua? O è un'altra casa? Eh nonnina... Perché mi hai preso nonna? No! E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Luke 0 2 Tube! Dove oggi siamo su Brenny Chapter 2! Il secondo capitolo della nonna cattiva! Dove adesso non è più sola... Ha pure un marito! Il nonno cattivo Grandpa! E quindi possiamo subito iniziare... Dove oggi come difficoltà mettiamo facile... Dove qua possiamo anche scegliere se giocare con tutte e due... Oppure solo Brenny o Grandpa! Oggi mettiamo tutte e due! Qualità ovviamente AIG! E allora... Possiamo iniziare! Buona visione! Iniziamo dal giorno 1! Dove di sicuro ce ne saranno 5 come sul primo capitolo di Brenny! Quindi alziamoci in questa stanza che è cambiata! La stanza è nuova! Alziamoci dai! Stanza più brutta rispetto all'inizio! Mentre qua invece adesso non c'è più un letto ma una panchina tutta brutta e scomoda! Nonna! Più cattiva sei diventata! Ma questa non è la tua casa nonna! È diversa! Forse è la casa del tuo marito Grandpa! Chissà! Intanto qua c'è questa scatola che va aperta con la crowbar! Piedi porco! Qua questa brutta trappola, la spinosa, che non voglio nemmeno sapere che cosa fa! Qui è un chiodo dove bisogna mettere Handwell! Qui invece non c'è niente! Intanto sento rumori brutti! Perché le case dei nonni sono le più rumorose! Bisogna fare silenzio quindi! Intanto qua andiamo nelle fogne brutte! Mentre là ho visto un tentacolo! E forse il nonno come animale domestico ha un polipo gigante mi sa! Tanto qua bisogna fare anche la fuga! Con il motoscafo si può scappare! E si può anche scappare dalla porta principale! E anche dall'elicottero ragazzi! Perché il nonno è più ricco della nonna! E ha pure un bel elicottero! Che però non scapperemo oggi ma nei prossimi video magari! Se volete! Quindi scrivetemi nei commenti! Se volete vedere altri video di Granny 2! Intanto sentite rumori brutti! Quindi me ne vado via! Dove questa è la porta tutta blindata! Che dobbiamo scappare! Dove qui c'è una grata! Un assere legno! Qui le scosse ricorrente! Padrol Kay! E Dorlandor! Tante robe ci sono! Non so se riusciremo a farcela con questi due pacci! Che ci stanno alle calcagne! Tanto qua dentro non c'è niente! Cassette vuote sempre! Anche il nonno! Qui invece c'è la pensione dei nonni in questa cassaforte! Dove abbiamo bisogno della chiave ovviamente! Invece qua prendo in questo orologio non c'è niente! Qui non c'è niente! Anzi c'è il manuale dell'elicottero! Che non ci serve! In realtà si può andare pure di fuori! Qua c'è questa biblioteca! Dove qui mi dice di premere! Che cos'è questo? Qua si apre addirittura! Si apre sì! Passaggio segreto! Buonasera nonna! Mi potevi dire che avevi un passaggio segreto eh! Speriamo che non ci becchiamo il nonno! Aiuto mamma mia! Tutte e due adesso come facciamo? Qui sto volando io! Un bug avevo scoperto! Che è successo? E adesso siamo fregati! Me ne vado qua dentro eh nonno! Ciao! Aiuto! Mi stavo buggando prima! Ciao nonno non c'è nessuno! Non ti puoi abbassare nonno! Non mi hai visto no! Buonasera comunque! Io mi chiamo Luke nonno! Se vuoi fare amicizia con me dimmelo! Anche se mi sa che con quella crowbar brutta a piedi di porco! E anche con quella chiave! Non credo che vuoi essere mio amico! Crowbar che serve a noi nonno! Mentre lui si andrà al di sotto! Meglio per noi! Noi ce ne andiamo mentre sento rumore di un pianoforte! E che la nonna sta suonando! E la nonna sta suonando! Guardate! Cosa è veramente carina! Nonna suona il pianoforte! Intanto qua la cucina devo dire che è più bello questo che quella della nonna! Più ordinato e più grande qui! Mentre qua abbiamo trovato... Ah! Stangan! Che bello! Oggetto bellissimo! Vero nonna? Eh... Buonanotte! Ah ah ah! La bella scossa! E quindi addormentati nonna! Due minuti! Ottimo! Mentre qua abbiamo trovato carne! Doorlock! Che non so se servono! Qui invece una radio! Dove abbiamo accesso alla musica di Granny! Ah ah ah! E mi sa che adesso arriva il nonno! Ehi! Crowbar del nonno! E nonno non arriva! Io prendo la crowbar! Dov'è la crowbar? Eccola qui! Andiamocene via! Con questo ti colpisco nonno! Tanto qui c'è una... C'è bisogno della cutting pliers per tagliare il filo! Che ti pareva! Tanto sento il rumore! Mentre qua c'è un passaggio segreto! Che cos'è questo qui invece? Do Randall che ci servirà! Quindi lasciamolo qua vicino! Tieni nonno! Do Randall! Entri con questa crowbar! Ti colpisco come faresti tu pure! Eh nonno! Vieni qua! E noi ce ne andiamo da quest'altra parte! Dai! Qua la nonna si sveglia! Iniziano i problemi! Ciao nonno! Venire qua! Qua invece c'è il fusibile che non serve! Solo con l'elicottero! Qua invece non si apre! C'è bisogno della chiave della sicurezza! Forse la chiave che ha il nonno! Chissà! Mentre qua invece c'è una scatola che abbiamo appena aperto e c'è la gasolina che non serve a niente! Mentre qua possiamo passare! Ottimo! E qui siamo nella stanza dei nonni! Letto matrimoniale! I nonni si sono sposati e dormono insieme! Cosa brutta! Non toccassetti! Vi ho trovato! Ah ah! Weapon K! Che bello! Adesso si scherza di più nonni! Dove finalmente vi possa addormentare! Qua possiamo aprire! Mentre qua c'è questo oggetto! Chiave inglese! E qui andando sotto ci ritroviamo qui! Bello! Tanto togliamo qua i primi oggetti! Assi di legno! Togliamola! Ho sentito un rumore brutto! Di una telecamera forse! Non lo so! Intanto questa la dobbiamo usare pure qua sotto! Perché là c'è quella telecamera! Vedete? Non so se il nonno è stato! Tanto che abbiamo trovato cutting pliers! Che ci servono! Il tagliare là! Il filo dove c'era il quadro! Ciao nonno! Ciao ciao! Non mi ha visto per fortuna! Tanto lo abbiamo a recuperare! Mamma mia! Aiuto! La nonna! Ha tagliato il filo? No! Adesso sì! Dov'è l'oggetto? Nonna! Vieni qua! La mia nonna preferita! E dormi di nuovo per la seconda volta! Lo qui prendilo l'oggetto! Aiuto! Adesso arriva il nonno! Arrabbiato nero! Abbiamo addormentato la sua amata moglie! Gli me ne scappo! Ancora il nonno non lo voglia addormentare! Ancora dobbiamo addormentarlo invece! Perché serve la security key! Quindi nonno vieni qua anche se quello lì non viene! Perché è vecchio e non sente i rumori come nonna! Più vecchia di Grenny addirittura! Tantimene vado via! Prendo la wrench! Che potrebbe... Ancora no no no! Questo prendo! Weapon key! Non wrench! Che ho in inglese! Non so nemmeno a che serve! Tanto questa weapon key a che serve? Ah oh! E qui c'è addirittura il fucile! Ecco che serviva la... I pon key! E qui possiamo caricare due colpi! Ottimo! Dove adesso il nonno è nei guai! Nonnino! Qua io suono! Faccio una bella musichina! Nonno! Non dove sei? Nonno non viene! Allora me ne vado! Non vuole venire! Eccolo lì il nonno! Aiuto! Buonanotte! No! Ho sprecato i colpi! No! Eh nonno! È una cosa che mi servirebbe però! Dammi la securità di key e andiamo ce n'è! Perché la nonna si sveglia adesso! Inizieranno i problemi! Sono andato nel bagno! Per fare i miei bisogni! Ma il nonno non me l'ha permesso! Questo qui abbiamo aperto! Eccuperiamo anche la Stangane! Dove questo qui è meglio! Nella Weapon K! Nonnino non sei qui vero? Non venire qua nonna per favore! Me ne vado via! Intanto qua! Telecamere ci sono! Eh sì! Qua abbiamo la Bot Cake che non serve a niente! Poi invece possiamo vedere le telecamere del nonnino! Andiamocene via! Questa stanza qui di sopra! Dove qui invece possiamo andare qua dentro! Dove qui c'è Andwell che ci servirebbe! Allora prendiamolo! Mettiamolo qua dentro! Adesso lo faremo anche cadere! Per cui invece bisogna aprire da qualche altra parte! Chissà dov'è! Mentre qua invece possiamo entrare qui dove bisogna mettere una missione! Le foto! Dove qui potremo entrare! Dove lì ci porterà in una nuova posto ragazzi! Dove però non dobbiamo andare quest'oggi forse! Per cui non c'è niente! Adesso qui dobbiamo sparare in quella grata! Se riusciamo però! Sì! Per poco mamma mia! Stavamo rischiando! Adesso per tagliare questo qui bisogna prendere le cutting pliers come al solito! E sbrighiamoci! E ora ce l'hai! Ci metto tutto! Lasciamo cadere qua! Adesso ci spostiamo! Perché la nonna arriva! Vi ho fatto rumore! Nonnina! Ecco te qua! Puntuale come al solito! E ti addormentiamo di nuovo! Perché tu! Hai un conto in sospeso! Com'è? Intanto la nonna rimane bloccata al quadro! Ah ah! Mamma mia la nonna! Guardate qui si è buggata! È rimasta bloccata al quadro! Intanto cutting pliers non lo so dove li ho lasciate! E questo è un problema! Vero nonna? Spostati! È rimasta attaccata al quadro nonna! Che è successo? Mi deve riprendere questo invece! Andiamocene sotto! Sperando che non c'è il nonnino! Cutting pliers non mi ricordo dove sono però! Via! Nonnino! Non sei qui vero? No! Questo qua dobbiamo portarlo di sotto! Se non c'è il nonno! Vero nonnino? Non sei qui vero? No! Allora qui possiamo fare? Sì! Che sa che abbiamo fatto però! Abbiamo tolto la grata lì! Ottimo! Allora sbrigaci! Mentre qua si sta buggando tutto! Gioco buggato! Tanto che là c'è il quadro di Grennico Slendrina! Tanto qua c'è l'Aurence! Potrebbe esserci utile! Vero Grampa! Tanto mi ha visto forse! Non lo so! Tra qua che cosa c'è? Mamma mia! Qua c'è anche un cortile! Dobbiamo andare qua sotto! Mi sa! Ma c'è un'altra foto! Che non ci serve forse! E qua forse con questa Aurence potremmo fare qui! Sì! Ottimo! L'abbiamo fatto! Adesso andiamocene! Forse abbiamo tolto l'acqua all'altra parte! Sì! L'abbiamo tolta! Adesso me ne vado io! Di caricare qua il fucilone! Quindi sbrigiamoci! Ma che si sveglia nonna! E arriva nonno! I miei nonni preferiti! Quindi carichiamo qui! Adesso stiamo attenti! Nonnina! Nonnone! Nonnone! Dove siete? I miei due nonni preferiti! Mi aspetto qui intanto eh! Non vi preoccupate! L'aspetto qua proprio! Tanto qui ho fatto un bellissimo rumore! Mamma mia! Ho fatto volare sti scatole! Nonna! Dove sei? Ho paura dove mi sbuchi però no! Eccola lì! È spavnatela nonna! Buonanotte! Due minuti e trenta secondi! Ottimo! Tanto il nonno dov'è? Non c'è mai il nonno quando serve però! Tanto qua li carichiamo! Eccola qua le cutting players! Li prendo subito! Spremmo che non c'è il nonno! A prenderci vero nonna! La nonna sta dormendo! E noi saliamo qui! Ciao ciao! Devo salire qua dentro ai cutting players! Quindi sbrighiamoci! Sento rumori di persone che dormono! Il nonnino forse sta dormendo! Non lo so! Sta russando! Entra qua c'è un mostro! Mamma mia! Dove questo ragazzi è il marito di Slendrini invece! Guardate qui un vampiro bruttissimo! Qui invece abbiamo la chiave per rubare i soldi alla nonna! E quindi andiamocene via! Derubiamoli! Approfittando che il nonnino forse dorme! Una bella russata sta io sentendo! Prima voglio addormentare il nonnino! Ehi nonno! E vieni qua! Facciamo due risate insieme! Ah ah! Prendiamo la chiave dai! Mi arriva nonna! Tra un minuto forse! A darci noia! Scappiamo! Andiamo a rubargli i soldi ai nonnini! Però c'è! Speriamo che c'è qualche oggetto utile però! Dove ce ne sono rimasti due oggetti da togliere qua! Padrol K e Dorendul! Uno ce ne è rimasto! Il padrocchè l'abbiamo trovato! Cacciamo subito via! Ah ah! Vero Granny! Vero Grandpa! Mi sa che vi saluto! Vi saluto! Vi saluto! Ciao ciao! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Prima volta che siamo scappati dalla casa del nonno! Ciao ciao! Anche la mia macchina si è rubata nonna! No! Intanto ciao Grandpa e ciao Granny! Ciao ciao! Il video finisce qui ragazzi! Spero che vi sia piaciuto! Se è così spolliciate, commentate, condividete e iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Noi ci vedremo in un prossimo video! Quindi vi auguro una buona giornata! Una buona giornata e una buona notte! Ciao ciao!